Questo è il carri di cervo dove noi andremo a preparare questa ricetta di costoletta di cervo al punte franca rosso riserva, mirtilli e ginepro. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Questo è un piatto semplice ed è molto invitante e vi dico buon appetito da Enio e dall'Osteria Uvarara.